In un periodo particolarmente delicato e compromesso a livello proprio socio-economico-sanitario, la sanificazione forse rimane uno dei pochi strumenti a nostra disposizione. Andiamo a parlare con dei professionisti del settore, con i proprietari della ditta Ferreri Sanificazione, esperti del settore e soprattutto autorizzati dal Ministero alla Sanità per quanto riguarda questa tipologia di interventi. Andiamo a scoprire! E andiamo a scoprire direttamente dalle parole del signor Cristiano Ferreri quali sono i servizi che effettua appunto la ditta Ferreri Sanificazioni. Salve, noi effettuiamo sanificazioni in tutte le attività commerciali, negli appartamenti e in generale dove bisogna sanificare. Cristiano, oggi più che mai si parla e si pensa a prodotti ad impatto ambientale zero, voi che tipi di detergenti usate? Allora, i nostri detergenti sono prodotti a base di alcol e isopropanolo, quindi non sono prodotti tossici, non sono prodotti che fanno male alla salute e disinfettano. Questa tipologia di intervento quanto tempo richiede? E allora, considera che noi per effettuare una sanificazione perdiamo, in base alla grandezza del posto dove sanificare, possiamo perdere tra le 20 minuti e 45 minuti. Di solito, che tempo passa dal momento in cui o un privato o un commerciante richiede il vostro intervento? Per il sopalluogo quanto tempo ci sta? E allora, dal momento che ci chiamate dal sopravluogo noi lo effettuiamo al massimo in due ore. Quando si parla di certi servizi magari si ci arrende ancora prima di sapere il prezzo, ma qui alla Ferreri non sono questi prezzi così elevati, no? No, noi partiamo dagli 80 centesimi al metro quadrato, in base alle metrature dove dobbiamo andare a sanificare e in più abbiamo delle convenzioni semestrali o annuali dove i prezzi sono più convenienti. Di solito il vostro intervento, su quale attività è richiesto? E allora, di solito noi sanifichiamo le attività di ristorazione, le attività di commeccio in generale, quindi come può essere il negozio di casalinghi, come può essere il negozio di abbigliamento, come, ripeto, la ristorazione in generale tutta completa. Perché, Cristiano, i clienti dovrebbero scegliere la Ferreri Sanificazioni? A parte che mettiamo passione su ciò che noi effettuiamo, non siamo degli avventori, quindi abbiamo studiato, sappiamo quando andiamo a sanificare o a disinfettare, sappiamo i punti, quelli dove sono più concentrati i batteri, quindi andiamo di più a eliminare, diciamo, i problemi che ci possono essere. Un'altra domanda che mi nasce spontanea, abbiamo parlato che comunque usate dei prodotti ad impatto ambientale zero, ma a livello proprio di salute ci sono delle controindicazioni? No, su quello no, non ci sono controindicazioni. Dopo quanto tempo si può accedere nei locali? Allora, noi consigliamo sempre di lasciare un'oretta, massimo due orette l'attività chiusa, ma non perché è nocivo, solo esclusivamente per fare l'effetto al sanificante nell'ambiente chiuso, consigliamo anche di accendere i condizionatori, quindi nello stesso tempo l'ambiente si pulisce e si sanifica. Quindi, Cristiano, un'altra domanda che ti chiedo, ma nel caso in cui un'attività è impossibilitata durante il giorno a chiudere questo paio di ore, voi? Noi possiamo effettuare le sanificazioni anche di notte, tipo un ristorante che chiude a mezzanotte, noi a mezzanotte possiamo fare l'intervento tranquillamente. Ti va di aggiungere qualcos'altro al nostro colloquio, Cristiano? A parte che noi siamo esclusivi della Meccano, quindi abbiamo prodotti italiani e per questo anche andiamo forte nel senso che ci possiamo vandare dai nostri prodotti. Per il resto siamo sempre operativi, siamo sempre a vostra completa disposizione. Cristiano, grazie per la tua spiegazione su questi punti abbastanza salienti in un periodo abbastanza particolare, come abbiamo appunto accennato all'inizio, ma come vogliamo lasciare i nostri amici a casa? Sanificare non è un obbligo, ma un dovere civico. Sanificare non è un obbligo, ma un dovere civico.